Ragazzi, guardate! Questo ti l'ha capito? Non l'ho capito anch'io Non l'ho capito anch'io C'è un sacco! ma si può avere tutto nella vita oltre che un cambio in dici ore almeno questo avete capito ho uscito tutto come a te mi traduco mi sa che non c'è però però facciamo lo stesso purtroppo è venuto a mancare è un amico amostro di Matera forse questo di voi se lo ricorda Gigi di Matera e comunque ci ricorda tutti quanti che a Matera sono tutti drogati grazie a tutti grazie a tutti attenzione va solo grazie grazie a tutti grazie a tutti prossimo pezzo è un po' di Zaglia grazie a tutti 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 prossimo pezzo si chiama ma chi è Dario? si può muoio? si può muoio? si si aspetta va bene grazie a tutti 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 C'è un po', canto, guando. Che cosa hai fatto? Sono in scuola. Sono in scuola. Ho un libro di William Shakespeare. Che cosa si chiama? Che cosa si chiama? La rossa, pur che si chiamava piede, profumiamo senso. oh capito, me lo capito Bella, che libri lì, che le... cosa and'è? Bella, te ne devi andare basci un po' con l'amica, tu come ti chiamo? con la compagnia? suonalo, bravo, vatti, va, 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 va che accendiamo? oh, sono stavi, sono stavi allora, vado in camera, mi ha sentito il maciulla ma ci sono, vado in camera, mi ha sentito il maciulla mi ha parlato di柱 Assim seti, atti, l'arrivo, atti, l'arrivo, atti, l'arrivo, aspetti l'arrivo, aspetti ci hai passato lasi delle le portasi Sono state grandissime. Bene, Irene e Giulio. Un applauso! Lucia, sì, però non mi ha fatto una ragazza. Tutto qua. Io ti mando un po' su, ovviamente. Lo sentivo è di Lucia. Interessa Claudia. Un testo fa da su un po' per la madre di Lucia. Se qualcuno c'è nel barbecchio, cominciamo a... Beh, io... Continuerei con la scaletta. Perché qui abbiamo uno sito molto importante, quindi... All'inorda. Penso che la maggior parte di voi sia venuto qua apposta. No, no, no! No, no, no! Non si, però... Oh, wow, Giggs! Grazie! 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 alle e le 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 conselle Bello di noi! Oh! Cacchio! E' il basso? Un applauso, ragazzi! E' il tuo basso, quello! E ci ha amassi pure male! Bene! Abbiamo... Un ferito! Un bassista che non fa più il suo basso! Beh dai, va bene qua! Cacchio! Cacchio! Scusate, io vorrei ringraziare tutti quelli che sono venuti qui pagando! Ma non so che cazzo avete fatto! Grazie per aver pagato! Un applauso, ragazzi! Dai! Dai, un applauso! Applauditevi da soli! Siete grandissimi! È tutto! Abbiamo pagato! Suona! Qualcuno con Jack in macchia! Questo Oscar! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Sì, di domenica, per te! C'è meglio! Eeeh, va bene! No! Siamo senza Jack! Senza Matti! Un applauso! Un applauso! E le batterie sono finissime! Un applauso! Un applauso! Un applauso! e' solo inser одном! Juissero! Una vera! C'è un blindato! Un applauso! Un applauso! Grazie